Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Benvenuti carissimi bambini di nuovo all'incontro di Catechismo, la dottrina cristiana. Iniziamo con la preghiera del Teadoro. Ti adoro, mio Dio, e Ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la Tua santa volontà e per la maggior Tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La Tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Diciamo questa volta un Padre nostro, perché l'incontro di oggi è su Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco, carissimi bambini, iniziamo questo incontro, nel quale vi voglio parlare di Dio. Abbiamo visto, negli incontri passati, tutto quello che Dio ha creato. Il mondo, l'uomo, gli angeli, gli animali, le piante, eccetera, eccetera. Ultimamente avevamo visto gli angeli, se vi ricordate. Gli angeli, ma anche i demoni. Le domande, erano due, sono queste. Chi sono gli angeli? Gli angeli sono i ministri invisibili di Dio e anche nostri custodi. I demoni chi sono? I demoni sono angeli ribellatisi a Dio per superbia e precipitati nell'inferno. Per odio contro Dio, essi tentano l'uomo al male. Queste erano le domande e le risposte che spero abbiate imparato a memoria la settimana scorsa. Ora, oggi torniamo a parlare di Dio, delle grandezze di Dio. Possiamo innanzitutto dire questo. Guardiamo un'immagine che io vi ho già fatto vedere ancora in uno degli incontri passati. Questo è Dio che crea l'universo. Guardate come è raffigurato. E' raffigurato come un signore molto anziano, con la barba lunga. Ecco, perché di solito Dio viene raffigurato in questo modo? Anche se noi non lo abbiamo mai visto Dio. Dio non si può vedere. Perché non si può vedere? Perché è puro spirito. Perché viene raffigurato con la barba lunga? Perché è come un uomo molto anziano? Perché Dio era prima del mondo. Era prima dei pianeti. Era prima dell'universo. Era prima degli angeli. Esisteva prima dell'uomo. E quanto tempo prima? E ha cominciato ad esistere. Da sempre. Questa è la risposta. Dio è sempre stato. Dio è sempre stato e sempre sarà. E fino a quanto durerà la sua vita? Per sempre. Perché Dio è eterno. Non ha un inizio e non ha una fine. Carissimi bambini, il titolo di questo incontro che dovrete segnare sulla pagina del vostro, dovete scrivere sulla pagina del vostro quaderno, è questo. Le grandezze di Dio. E la prima domanda che dovete scrivere, poi anche imparare a memoria, è questa. E' quella che porta il numero due, ma lasciate perdere i numeri, perché per noi sono diversi. Dio è sempre stato? Punto interrogativo. Dio è sempre stato e sempre sarà. Due punti. Egli è l'eterno. Notate che Egli è maiuscolo, perché questo pronome è riferito a Dio. Dio è sempre stato e sempre sarà. Egli è l'eterno. Dio è eterno. Ecco. Quindi questa è la prima grandezza di Dio. Avevamo già, carissimi bambini, se vi ricordate, avevamo imparato anche questa. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, quindi non c'è nessuna mancanza in Lui. Creatore e Signore del cielo e della terra. E' quello che ha creato. Tutte le cose che esistono, non solo Creatore, ma anche Signore, perché appartengono tutte a Lui le creature. Ma oggi, ecco, scrivete, Dio è sempre stato, Dio è sempre stato e sempre sarà. Egli è l'eterno. Poi fate un altro titolo, sempre nella stessa pagina, sapete? L'altro titolo di oggi è questo. Dio è in ogni luogo. Infatti ci chiediamo dov'è Dio? Dove lo si può vedere? Dove lo si può incontrare? Scusate, non vedere. Dove abita Dio? Questa illustrazione vi fa vedere Dio nel paradiso insieme agli angeli. Quindi Dio ha la sua dimora nel paradiso insieme agli angeli, ma ci sono anche i santi. Chi sono i santi? Sono le anime di coloro che sono morti, ma nella vita si sono comportati bene. hanno obbedito ai comandi di Dio, alla volontà di Dio, e perciò hanno meritato il paradiso. Dio è in paradiso insieme agli angeli e ai santi. E basta? No. È anche sulla terra. È nel cielo. È dentro alle case delle persone. È in ogni luogo. La domanda che dovrete scrivere, ecco, e la risposta che dovete imparare a memoria, è semplice. È questa. Dov'è Dio? Dio è in cielo, virgola, in terra e in ogni luogo. Ovunque. Ecco, potete fermare l'immagine e scrivere bene questa domanda e questa risposta, che sono da imparare, che è a memoria, come quella che vi ho dettato prima. Dio è sempre stato, quella, ecco. Dio è in cielo e in terra e in ogni luogo, pensate. Quindi ci vede comunque, ci vede sempre, vede noi, ci ascolta. Ci vede, ci ascolta anche quando siamo nel buio, anche quando siamo da soli, nella nostra camera, anche quando non ci vede nessun'altra persona. Io so che ci sono dei bambini che purtroppo hanno l'abitudine di dire le bugie, di dire le bugie e di nascondere la verità ai genitori, agli insegnanti, ai compagni, alle altre persone. E in questo modo pensano di sfuggire e di farla franca e di poter fare quello che vogliono. Ma non è così. Perché anche le bugie, il Signore le sa riconoscere, perché vede e sa tutto. Ti vede quando sei da solo. Ti vede sempre. Dio è sempre con te. Sapete dove si trova Dio? Dio non si trova solo nel cielo, nella terra, nelle case, nella nostra camera, ma si trova anche dentro noi stessi. Addirittura Dio abita anche dentro noi stessi, nella nostra coscienza. Guardate cosa c'è scritto. Sai dov'è pure Dio? È dentro di te, nel tuo cuore. È nel tuo cuore. È nella tua anima. È nella tua coscienza. Questa frase dice fai, fa un atto di amore. Ecco perché bisogna fare atti di amore a Dio. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore e sopra ogni cosa. Dio è ovunque, anche dentro di noi, nella nostra anima. Che bello questo. Che la nostra anima è la dimora di Dio. Cerchiamo quindi, carissimi bambini, di piacere sempre al Signore, con i nostri pensieri, con le nostre azioni, con le nostre parole, anche cercando di parlare bene, di non dire parolacce, di non offendere Dio, di non offendere nessuno con il nostro linguaggio, e di fare opere buone, perché Dio ci vede ed è presente, fuori di noi e dentro di noi. Questa è una cosa meravigliosa. Egli vive da sempre, dall'eternità, e sarà sempre vivo per tutta l'eternità. E anche noi, quando saremo morti, dopo la nostra morte, l'anima nostra continuerà a vivere. E speriamo di poter meritare il Paradiso e vivere sempre con Lui insieme agli angeli, cari bambini. Questa è l'incontro di oggi. Vorrei che terminasse qui, perché dovete ricordare queste importanti cose. La prima è se Dio è sempre stato e sempre sarà. La seconda è dove abita Dio. Dov'è Dio? E poi, oltre ad imparare queste domande e queste risposte, che sono due, farete anche un disegno che si ispira alle cose che vi ho appena detto. Per esempio, qui trovo un disegno di un bambino, una bambina, che dice una bugia alla sua mamma. Ma l'angelo custode dietro di lei è triste e piange, perché vede che ha detto una bugia. Dio vede quella bambina. Anche l'angelo custode la vede. Pensiamo bene alle cose che facciamo per comportarci sempre davanti agli occhi di Dio e del nostro angelo custode. Ora terminiamo questo incontro pregando per il nostro Santo Padre Benedetto, che prega sempre per noi e ci benedice. Diciamo insieme un'Ave Maria. Oltre che per lui, preghiamo anche per tutti gli ammalati e i sofferenti e per i nostri cari. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. E' un angelo di Dio perché ci assista e ci accompagni in questa settimana a imparare bene queste cose che vi ho appena detto. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Al prossimo incontro, carissimi bambini, e sempre avanti con Maria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.